Salve a tutti amici, ho appena postato sulla mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker la prima diretta radio web con la collaborazione di Segni dal Cielo con Massimo Fratini, Emiliano Babilonia in Matrix, il mondo parallelo, la potete ascoltare sulla mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker se volete effettuare una registrazione, testimonianza, contattatemi